della MotoGP. Forse non sarà riuscito a vincere la gara di oggi, ma ci ha senza dubbio regalato una prova maiuscola. Gli applausi di squadre e tifosi sono certamente meritatissimi. Gli applausi di squadre e tifosi sono certamente meritatissimi. Tutti oggi hanno dato il massimo, ma non si può negare che questi piloti abbiano fatto uno sport a parte, un altro sport.